E' dedicata non solo alle casalinghe ma a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni la campagna messa in campo dall'Inail e dalla provincia di Napoli per sensibilizzare sul tema degli infortuni in ambito domestico. Dal 2001 l'assicurazione che copre questo genere di incidenti è di fatto obbligatoria per disoccupati e casalinghe o comunque per tutti coloro che non siano legati da vincoli di subordinazione. Il 31 gennaio scadrà infatti il termine per sottoscrivere l'assicurazione che ha un costo di circa 12 euro contro i cosiddetti infortuni in ambito domestico ma non sono molti i cittadini che ne sono a conoscenza o che hanno l'intenzione di assicurarsi rischiando di andare anche incontro alle sanzioni previste dalla legge. Ed è proprio per eliminare ogni tipo di diffidenza che nella sede della provincia di Napoli si è svolto un primo convigno alla presenza tra gli altri della direttore regionale Inail e Emidio Silenzi il quale ha sottolineato l'importanza dell'assicurazione visto l'elevato numero di infortuni registrati. La statistica più rilevante è purtroppo il numero dei morti derivanti da infortuni domestici che sono sempre oltre i 3.000 ogni anno oltre tutti gli infortuni gravi che si verificano all'interno delle mura domestiche. Ci troviamo nella condizione di poter avere da parte della pubblica amministrazione un aiuto nel caso in cui si dovessero verificare infortuni gravi. Per sottoscrivere l'assicurazione è possibile utilizzare il bollettino rilasciato direttamente nelle sedi Inail ma anche attraverso il sito internet www.inail.it o attraverso bonifico bancario. Si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 27% ma come spiega l'assessore alla sicurezza della provincia di Napoli, Patrizia Sannino, si sta lavorando per modificare i parametri indicati dalla legge. La cosa per noi non è esaustiva, noi riteniamo che bisogna lavorare di più e meglio intanto per allungare i tempi e quindi non fermarsi a 65 anni per la copertura ma arrivare a 70 anni e poi l'altra questione importante è riconoscere anche una temporanea, cioè se in quel dato momento io mi sono fatta male posso avere un riconoscimento di qualcosa che non sia permanente. Grazie